Quindi possiamo entrare, diciamo, primo punto all'ordine del giorno, al primo punto approvazione verbale e sedute precedenti. Apponiamo in votazione il provvedimento per appello nominale. RISERBATO, OPERAMOLLA, APPROVAZIONE, APPROVAZIONE, APPROVAZIONE VERBALLE E SEDUTTI PRECEDenti. Ripeto, ok. Quindi OPERAMOLLA, Favorevole, Ferranti assente, Tremini assente, Franzese assente, Eletom, Gargiolo, Corrado assente, Ferri favorevole, Lima favorevole, Musci favorevole, Savino assente, Cozzoli favorevole, De Noia assente, Di Modugno favorevole, Scagliarini favorevole, Sonatore, Favorevole, Brescia favorevole, Gagliardi Riccardo favorevole, Di Leo Giovanni, chiedo scusa, Favorevole, Gagliardi Riccardo favorevole, Damascelli favorevole, Paolillo, astenuto, Dipinto assente, Altamura favorevole, Maiullari, astenuto, Tortosa Giuseppe assente, Gagliardi Giuseppe favorevole, Laurora Tommaso assente, Cognetti Domenico assente, Avantario, astenuto, De Laurentiis, astenuto, Laurora Francesco assente, Santorso Domenico, astenuto. Ci troviamo? Allora, il primo provvedimento passa con 17 voti favorevole, Gagliardi Riccardo favorevole e 5 voti astenuti.